ciao ragazze allora come colazione ho scelto un qualcosa di diverso rispetto al solito cappuccio e brioche come vedete qui c'è del caffè poi pancake e banana qualche fettina di banana con un pochino di nutella e poi una bella spremuta d'arancia fresca per pranzo passa al forno è da bere un bicchiere d'acqua naturale per merenda mangerò tre palline di gelato alla vaniglia con un po di frutta nello specifico kiwi e fragole questa sera ce n'è in solitudine ho deciso che mangerò un po di insalata che andrò semplicemente a condire con olio aceto e sale 4 mozzarelline e infine questo burger di soia con verdure vi faccio vedere qui la scatola l'ho acquistato alla copp l'ho presi qualche tempo fa mi era piaciuto e così ho deciso di riprenderlo e da bere semplicissima acqua naturale acqua naturale